Siamo sicuramente soddisfatti. Io faccio i complimenti alla squadra. I ragazzi hanno fatto una partita importante. Siamo ritornati ad avere delle emozioni sulla vittoria. Sono sicuro che sia loro che le loro famiglie potranno vivere qualche giorno più sereni. Sono state settimane difficili, complicate, di grande lavoro, ma quando non raccogli dopo perdi un pochettino la dimensione di quello che stai facendo ed è difficile continuare a testa bassa sul lavoro. Oggi è sicuramente un giusto premio. A volte posso risultare superficiale, ma mi piace dire che non nomino i tifosi solamente quando vinciamo. e solamente veramente per i tre punti meritano di essere nominati. Era da Renate che l'Alessandria non vinceva. Io a volte posso, ripeto, risultare un po' così introverso, ma è inutile dilungarsi con le parole e stare a fare ringraziamenti quando poi la squadra perde. Mi sembra una presa in giro oggi. Invece i tifosi hanno, come piace a me, suonato i tamburi, hanno cantato, sono stati vicini alla squadra e soprattutto sapevamo che il 18 febbraio era una data importante per il nostro club. Io sono l'allenatore, la squadra e tutti siamo... Insomma, ci uniamo agli auguri un po' in ritardo, però volevamo farlo con una vittoria. La società è vicina alla squadra, siamo uniti, dobbiamo continuare così. Oggi potevamo gestire meglio il doppio vantaggio per essere, come piace a me, pignoli, per ricercare sempre qualcosa quando si perde di positivo e quando si vince di negativo. Questi ragazzi stanno dando tanto e, come avevo detto, i punti arriveranno. Detto questo, noi siamo in ritardo sulla nostra tabella di marcia. Questa partita chiude le prime gare con 4 punti e dovevamo farne 9, quindi siamo in ritardo di 5 punti che dobbiamo andarci adesso a riprendere da qualche parte. Però è vero, avevo chiesto tutta l'attenzione ad andare in vantaggio perché dovevamo far vivere agli altri una partita con le difficoltà e, ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato benissimo la partita.